Costruire l'elettrodomestico, progettarlo, venderlo fa parte della nostra tradizione. Noi diciamo a Whirlpool investi sull'Italia per superare i problemi che ha la multinazionale anziché andare via e vendere dei pezzi della nostra storia industriale. Nulla di fatto se non la richiesta di un rinvio della vendita dello stabilimento Whirlpool di Napoli. Una sospensione, quella emersa durante l'incontro tra il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, il Ministro del Mise Stefano Patuanelli e CGL Cislewil. Nell'attesa di un incontro a due, governo-azienda, chiara la posizione dei sindacati, no ad uno slittamento della sospensione entro e non oltre il 31 ottobre, piuttosto un ritiro della proposta sul Napoli. Noi chiediamo il ritiro di quella procedura, ma non lo chiediamo così perché non ci piace, perché c'è un accordo firmato con il governo che Whirlpool disattende. In quell'accordo in Italia erano previsti investimenti, eventualmente operazioni di reshoring, cioè di lavorazioni che ritornano dall'estero, mentre invece qui assistiamo alla dismissione di uno stabilimento, alla cessione di una parte di azienda solo esclusivamente perché non è efficiente e profittevole. E questo domani potrebbe capitare a fronte di problemi che si potrebbero verificare a qualsiasi altro stabilimento o a qualsiasi altra produzione. Napoli come antipasto di quello che potrebbe succedere nelle Marche, su questo le resistenze sindacali. Sono oltre 1.500 i dipendenti coinvolti, 365 a Comunanza, circa 1.300 a Fabriano. Nell'Ascolano il rientro dalla Polonia delle Lavasciuga, mentre nella Fabrianese è nato lo spostamento delle funzioni impiegatizie. Sul territorio di Fabriano siamo preoccupati per le sedi impiegatizie, in quanto l'Italia nell'accordo del 2018 deve rimanere centrale e si stanno delocalizzando invece degli enti, delle funzioni anche importanti e poi vorremmo soprattutto il rispetto delle operazioni di reshoring che prevedevano per il 2020 il ritorno di produzioni dalla Polonia su Comunanza. Se viene messo in discussione un pezzo, viene messo in discussione tutto. Quell'accordo è stato firmato con il Governo e il Governo deve fare in modo che la multinazionale rispetti gli impegni e soprattutto crediamo che a questo punto ci sia bisogno di un intervento legislativo da parte del Parlamento che impedisca alle multinazionali di venire in Italia a fare e disfare come gli pare e depredare il patrimonio industriale italiano.